E' arrivata stamani la nota ufficiale della Pescara Calcio che annuncia Bepi Pillon, nuovo allenatore. La novità è in realtà la promozione di Emanuele Pesoli, a vice dello stesso Pillon. Nello staff tecnico, già a lavoro in questi giorni, ci sono i preparatori atletici Giacomo Tafuro e Jacopo Pillon, figlio del neo allenatore Biancazzurro. Gli unici confermati sono il preparatore dei portieri Gabriele Aldegani, che già con Epifani aveva preso il posto di Guido Nanni, e Diego Labricciosa, addetto al match analysis, unico superside dello staff che è stato di Zeeman. Ieri Massimo Epifani è tornato a dirigere la primavera, coadiuvato dal collaboratore Mauro Esposito e dal preparatore Ermanno Ciotti. In vista della dura gara di Palermo c'è già una grana per Pillon. Il capitano Gaston Brugman, ex della gara peraltro, è alle prese con un edema muscolare. Le prossime ore faranno capire se il versamento sarà subito assorbito oppure no. La possibile assenza del centrocampista uruguaiano e quelle certe dello squalificato Carraro e del lungodegente Proietti priverebbero Pillon dei tre potenziali metodisti. Ieri il tecnico trevigiano ha provato in quella posizione Macin, affiancato da Valzania e Coulibaly. Una ipotesi molto verosimile, visto che altri centrocampisti di ruolo non ve ne sono. Non è escluso che si possa percorrere un'altra soluzione, che risponde al nome di Cesare Bovo, altro ex della gara, che ieri tuttavia è stato sì provato in mediana nella squadra opposta, in un centrocampo a quattro con due mediani, Bovo appunto e Carraro. Nella formazione che somiglia a quella titolare poi, Pillon ha provato in difesa Fiamozzi, Coda, Fornasiere e Crescenzi e in attacco Capone e Mancuso ai fianchi di Cocco. Mosse che potrebbero far presagire anche il rilancio tra i titolari di Fiamozzi e Capone. Così come non sarebbe da escludere pensare allo stesso Cocco, che per Pedigree è il migliore centravanti del Pescara, e vista l'involuzione di Pettinari e la scarsa esperienza di Cappelluzzo e Bunino, le gerarchie nel finale di stagione potrebbero essere sovvertite, sempre che l'attaccante Sardo, ex Vicenza, dia dimostrazione di essere a posto fisicamente e pronto a calarsi in un clima da battaglia. Per la cronaca nell'altra squadra, disposta col 4-4-2, Bunino, Cappelluzzo e Pettinari hanno ruotato in avanti Iamgà e Baez, gli esterni, difesa con Balzano, Gravion, Perrotta ed Elisalde. In casa Palermo riecheggiano ancora le parole forti del patron Zamparini sull'arbitraggio di Parma-Palermo, parole che hanno suscitato la risposta del club ducale. La squadra rosa-nero tornerà in campo nel pomeriggio per riprendere la preparazione in vista del match di sabato.